Partenza sprint per le borse europee a inizio settimana, con Milano che guadagna a fine seduta l'1,20% a 23.260 punti. Le piazze del vecchio continente non sembrano dare peso alle notizie che arrivano sul fronte Grecia da Bruxelles, dove un accordo sulle riforme non è ancora stato trovato. Atene chiude in rialzo dello 0,53%. A Milano sprint di Jux più 9,96%, che ha confermato con Richmond per una business combination con Neta Porte. Male invece la seduta per World Duty Free, che chiude in calo dell'8%. Il mercato non sembra aver apprezzato le condizioni con cui la famiglia Benetton ha deciso di vendere il 50,1% del gruppo alla Svizzera du Free.